Emilia Clarke, i segreti di bellezza della regina dei draghi di Gott Il pubblico la conosce come Daenerys Targaryen, ma in realtà Emilia Clarke è molto più della regina dei draghi di Gott. L'attrice britannica è stata nominata come donna più sensuale del mondo da esquire, scalzando così i tipici canoni di bellezza a cui siamo tutti abituati. La Clarke è diversa da tutte le altre attrici, ma perché? Prima di tutto la sua fisicità è magra e minuta, non è proprio l'esempio di donna slanciata con altezze vertiginose, inoltre non è una bellezza che arriva diretta, ma ha una sensualità più sofisticata. Sicuramente il suo personaggio di Gott ha contribuito a creare su di lei un alone di mistero, ma la sua bellezza non si è affermata solo al personaggio di Daenerys Targaryen. Ecco quali sono i suoi segreti di bellezza per avere un corpo sempre al top della forma. . Alimentazione sana e tanto sport. La ricetta di Emilia Clarke è semplice, basta seguire un'alimentazione sana e praticare tanta attività fisica. . L'attrice ha dichiarato che per avere un corpo tonico e asciutto, non esiste un rimedio a breve termine, ma è necessario prepararsi con costanza e determinazione, seguendo programmi di allenamento prolungati. . . Anche in altri ruoli che ha interpretato, come ad esempio Sarah Connor nel film Terminator, Genesis, Emilia Clarke si è sottoposta ad allenamenti di cardio e rinforzo muscolare per diversi mesi. . . Ma quali sono le attività che predilige? Sicuramente kickboxing e combattimento, dando libero sfogo alla sua indole di regina dei draghi, ma non mancano anche alcuni workout con il sollevamento pesi per il potenziamento muscolare. . . L'attrice, quando deve interpretare un ruolo che le richieda una forma fisica impeccabile, conferma di fare sport ogni giorno e con lunghe sessioni di allenamento. . Inoltre ha dichiarato di seguire un'alimentazione sana e regolare, come quella imposta dalla dieta Clean & Clean che lei stessa ha seguito. . . Questa dieta permette di ripulire l'organismo, eliminando le tossine attraverso un'alimentazione corretta, sono 5 i pasti giornalieri suggeriti, accompagnati da almeno 2 litri d'acqua. . Emilia Clarke è un look sempre al top. . . Anche il make-up e l'airstile sono sempre impeccabili per la regina dei draghi, pelle chiara e luminosa, arricchita da una pennellata di blush, rossetto rosso, un filo di eyeliner e di mascara per rendere i suoi grandi occhi verdi più visibili. . . Emilia Clarke non ama truccarsi in modo eccessivo e grazie alla sua naturale bellezza in realtà, non ne ha nemmeno bisogno. . . . . . . . .